Io sono Giorgia e collaboro con il Deportivo Junior da circa tre anni. Il Depolab mi ha chiesto di parlare di psicomotricità e sono qui. Innanzitutto la psicomotricità secondo il metodo di Bernard Accouturier è un'esperienza veramente unica, integrale, è un'esperienza educativa e rappresenta un'occasione per il bambino di parlare di sé, del proprio vissuto attraverso il corpo, attraverso il movimento e il gioco che sono le vie privilegiate dai bambini dai 0 ai 7 anni di età. La psicomotricità non deve essere assolutamente confusa con la ginnastica o con l'attività motoria di base, ma perché non prevede delle regole dettate dall'insegnante o degli esercizi prettamente da svolgere. Il bambino infatti all'interno della stanza di psicomotricità è un bambino che porta all'interno il proprio vissuto, tutto ciò che desidera e soprattutto le sue emozioni e anche le sue paure. Inoltre non bisogna confonderlo con il gioco libero, altresì molto importante per lo sviluppo del bambino, ma la psicomotricità prevede un percorso ben determinato da far svolgere al bambino e degli obiettivi per portarlo a un percorso importante interiore. Ma adesso entriamo un po' più nel dettaglio. Innanzitutto gli obiettivi della psicomotricità sono praticamente tre. Il primo è l'obiettivo è quello di costruire un'ottima immagine di sé, il secondo è dare la possibilità al bambino un processo di rassicurazione delle proprie paure e delle proprie angosce e il terzo obiettivo, quello più importante, è il piacere di pensare, portando quindi da un decentramento tonico-emozionale delle proprie sensazioni a un passaggio appunto quello appunto di poter avere il piacere di pensare che è fondamentale per l'apprendere. Innanzitutto la stanza di psicomotricità deve essere una stanza sicura e una stanza piacevole in cui il fanciullo entra. Il materiale è un materiale specifico che ha la possibilità di trasformarsi in base alle esigenze del bambino. Inoltre all'interno ci sono delle scadenze ben precise, solitamente una seduta di psicomotricità dura dai 40 ai 45 minuti. La prima parte c'è l'accoglienza in cui i bambini entrano nella stanza di psicomotricità ed è la parte in cui si parla delle regole. Le tre regole fondamentali all'interno della stanza è quella che il bambino non è possibile che esso si faccia male, la seconda non è possibile che lui faccia male agli altri e la terza non è possibile che lui distrugga l'operato degli altri bambini. Il gioco rappresenta la parte maggiore delle tempistiche di questi 45 minuti in cui il bambino può vivere tutte le sue emozioni ed è la fase più importante. Successivamente nel gioco è fondamentale che lo psicomotricista sostenga il bambino e che gli faccia capire che quello che sta facendo è qualcosa veramente di fantastico, di sublime e meraviglioso. In questo modo aumenta la fiducia di se stessi. Dopo il gioco c'è il momento in cui i bambini possono raccontare una storia e quindi il vissuto che hanno provato giocando e trasformando il materiale e questo serve per incominciare ad un percorso ad un percorso corporeo importante in cui si passa dalla parte fisica alla parte pensante e quindi far passare le emozioni ad un livello di rappresentazione. L'ultimo è appunto la rappresentazione in cui avviene il decentramento vero e proprio, in cui i bambini depositano le proprie emozioni su un altro materiale ad esempio su un foglio da disegno. Lo psicomotricista ha un ruolo fondamentale in questo momento in cui in particolare deve accogliere e accettare la pulsionalità di ogni bambino e anche la propria differenza rispetto a un altro bambino e deve essere un punto di riferimento per ogni bimbo stesso nella crescita del gioco stesso. La psicomotricità effettivamente è un'esperienza educativa veramente importante e mette il bambino in un percorso cognitivo individuale rispettando i suoi tempi e permette veramente di gettare le basi per un ragazzo del domani con una buonissima autostima di sé e soprattutto con il piacere di pensare e apprendere tutto ciò che è la vita. Grazie per l'attenzione e buona giornata. Ciao!